Ciao ragazzi, un crimine al giorno alla botteguccia dei sigilli 24 aprile, il 24 aprile è una giornata in realtà in cui celebriamo, si celebra la liberazione e la decontaminazione di un'isola all'interno del gruppo delle isole ebridi nell'oceano atlantico in cui l'esercito inglese e i servizi segreti inglesi fecero delle incredibili sperimentazioni per la guerra batteriologica a partire dal 1942, quindi in piena seconda guerra mondiale. Non mi meraviglia se non avete mai sentito parlare di quest'isola perché ovviamente i segreti in occidente in relazione a questo tipo di sperimentazioni vengono tenuti, come dire, molto segreti a differenza di tutte le altre nazioni del mondo. Eccola l'isola Grunhard, è un'isola, adesso vi faccio vedere, abbiamo un paio di vedute che ho preso per voi, ecco qua una veduta dall'alto e poi gli diamo anche una localizzazione all'interno di quello che è il gruppo delle isole ebridi nell'oceano atlantico, vedete che ci sono le isole maggiori, poi c'è anche l'isola di Sky ed è anche al di sopra nel cerchietto che vi ho assegnato all'isola di Ailey, molto famosa per la produzione di whisky, ma è un'isola che è stata praticamente chiusa alla colonizzazione, anzi tutte le poche persone che vi vivevano sono state spostate, sono state evacuate perché è stata utilizzata per sperimentare un batterio, un ceppo particolarmente violento dell'antrace che è stato praticamente introdotto tramite l'esplosione di alcune piccole bombe, quindi andando a provare direttamente sia questa spora dell'antrace particolarmente virulenta, sia il metodo eventuale di utilizzarlo sui nemici, adesso vediamo anche quello che era uno dei cartelli, un paio dei cartelli che vennero esposti all'interno dell'isola che a tutti gli effetti venne evacuata e requisita dal governo inglese, poi verrà rivenduta praticamente alla fine della decontaminazione a un prezzo simbolico di 500 sterline ad alcuni discendenti, ai nuovi agricoltori che vorranno comprarla per tentare di farci crescere qualcosa insomma o rincominciare ad allevare degli animali. Ecco, la sperimentazione all'interno dell'isola Gruinar venne portata a termine tramite questo batterio dell'antrace inizialmente su un'ottantina di pecore che vennero praticamente, cominciarono a morire a partire da tre giorni dopo il contagio, quindi dopo l'esposizione grazie all'esplosione insomma di piccoli ordini e alla contaminazione di questo ceppo particolarmente virulento dell'antrace, talmente virulento che una o più delle pecore si suppone morte a causa del contagio arriveranno anche a toccare quelle che sono insomma le baie della terraferma direttamente davanti all'isola di Gruinar, tanto è vero che l'isola di Gruinar è distante praticamente poco più di un chilometro dalle coste della Scozia e il risultato fu ovviamente una contaminazione anche di una serie di lotti di bestiame che moriranno in terraferma e il governo inglese ci terrà ovviamente a risarcire immediatamente tutti quelli che erano gli allevatori ai tempi per fare in modo di intanto non far come dire trapelare notizie relative a questo tipo di esperimento e secondariamente per cercare di non far crescere il malcontento. Ci sono in rete anche se non sono facili da reperire dei filmati che sono sotto copyright ma che riguardano praticamente le sperimentazioni stesse e la detonazione alcuni di alcuni di questi ordini ripresi su pellicola a colori 16 mm e sono stati liberalizzati dopo la decadenza del segreto militare a partire dal 1997. Rimane che dal 1942 fino al 1990, il 24 aprile che io ho preso come data per definire e raccontarvi questo piccolo dettaglio di storia che non è sicuramente così come dire noto perché ovviamente tutto questo tipo di sperimentazione batteriologica in occidente viene tenuta tendenzialmente molto più reclusa e molto più nascosta rispetto a quello che si può dire invece dei terrificanti nemici come per esempio sappiamo benissimo della Russia ciò che ha operato all'interno del lago Dharal praticamente facendo in modo di brullificare la zona e di distruggere l'ecosistema a causa delle sperimentazioni di armamenti vari che verranno poi utilizzati per esempio nella guerra dell'Afghanistan rimane il fatto che l'Inghilterra all'interno dell'isola Grunard ha fatto veramente un disastro con un ceppo di antracce che è risultato talmente tanto resistente che diversi tipi di pulizie del terreno, asportazioni in massa del terreno, l'utilizzo di grossa quantità di formaldeide diluita con acqua di mare e poi praticamente sparsa sul terreno non è riuscita nonostante tutto a ripulire quella che era la maggior parte della contaminazione sull'isola che è stata poi data al fuoco sostanzialmente e bruciata con dei roghi di dimensioni eccezionali fino al punto poi finalmente il 24 aprile del 1990 riaprire l'isola ufficialmente teoricamente bonificata e rivenderla per quella cifra di 500 sterline simbolica che era stata promessa dal governo stesso nel 1946 quindi appena dopo la fine della seconda guerra mondiale ci sono stati una marea di studi portati a termine sia da alcuni gruppi di scienziati di nazionalità inglese così come scozzese alcuni studi anche di Greenpeace e addirittura un ride da parte di uno spagnolo di uno youtuber spagnolo nel gennaio 2024 per prendere tra virgolette possesso di un'isola che pare essere sostanzialmente l'isola è stata chiamata l'isola più tossica del mondo però insomma questa piccola pillola di crimine è per raccontare innanzitutto che come ovvio questo tipo di crimini di sperimentazione sulle tipologie di virus sui metodi per spargerli sui risultati terrificanti che si ottengono non vengono svolti solamente dai cattivoni che ci sono al di fuori dell'occidente ma che probabilmente quest'isola ancora oggi nonostante sia stata ripopolata da quel fantastico eccezionale bellissimo posto che era è stata trasformata veramente in un posto da scienziati pazzi questo è il crimine al giorno di oggi per il 24 aprile ci vediamo come al solito domani 25 aprile per parlare di qualcosa che vedrete decisamente terrificante anche domani grazie mille ciao ciao